Chilometri di reti abusive nell'area marina protetta degli infreschi e della masseta scoperte e sequestrate dalla guardia costiera e centinaia di pesci liberati e rimessi in libertà. È il risultato dell'ultima operazione portata a termine lungo il litorale che va da Marina di Camerota a Scario dai guardacoste di Camerota, diretti dal maresciallo Amleto Tarani e comandati a livello circondariale dal tenente di vascello Andrea Palma. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba con l'ausilio di un gommone veloce e di una motovedetta. Le reti sequestrate erano state posizionate da pescatori senza scrupolo in un fondale incontaminato ricco di posidonia, il tutto sfruttando il contesto naturale unico dell'area marina protetta che proprio per la sua particolarità è da sempre l'habitat naturale per la riproduzione di numerose specie di pesci, molluschi e crostacei. Gli agenti hanno rimosso le reti e liberato i pesci. Grazie. Grazie.